Buongiorno a tutti, ben ritrovati, giovedì e come ogni settimana all'appuntamento con le notizie che riguardano l'WISP. Partiamo subito con la sigla WISP Magazine. Ben ritrovati con WISP Magazine, diciannovesima puntata in studio. C'è Tommaso Bisio, benvenuto Tommaso, che è il consigliere nazionale WISP, coordina le leghe e le aree di attività del comitato di Genova, reluce da un congresso nazionale che si è svolto a Firenze nel fine settimana, quindi relazionaci su quanto è successo. Sì, era il primo incontro del Consiglio nazionale recentemente eletto ed è stato il momento per ripartire pianificando tutta quella che è la nuova struttura nazionale WISP che governerà l'associazione da qui ai prossimi 4 anni. Sono stati discussi e attribuiti gli incarichi delle varie commissioni, direi che c'è di che poter essere ottimisti perché da lì si è usciti con grande entusiasmo, con grande qualità per le persone alle quali sono stati attribuiti gli incarichi di cui poi magari si dirà un pochino più in dettaglio e con alcune gradite sorprese per così dire, ma poi vedremo che sorprese proprio del tutto non sono, per quanto riguarda anche il comitato di Genova. Questo perché alcuni pezzi dell'associazione verranno diretti da nostri dirigenti locali. In primis Tiziano Pesce che è il nostro presidente regionale che è stato nominato di fatto sabato per l'appunto responsabile nazionale del servizio tesseramento e consulenza che è un po' la cartina di tornasole della buona salute della nostra associazione. Questo perché il tesseramento ci dà l'immagine appunto dell'andamento dell'attività nei vari comitati. Il servizio consulenza è un po' il sostegno agli stessi comitati attraverso appunto formazione, attraverso consulenze fiscali, organizzative e quindi da Tiziano Pesce passa un po' tutto questo in quanto ne è responsabile. Complimenti naturalmente a Tiziano Pesce che è un personaggio multiforme, molto conosciuto e molto stimato. È veramente impegnato, conosciuto spesso anche a livello di questa trasmissione e dà una mano. Intanto invito la regia a mostrare il sito dell'UISP con tutte le notizie e poi entraremo nel dettaglio di quanto è successo a livello sportivo. Certo, ma prima parlavo di sorprese, questo lo è un po' di più anche se per certi versi ci si aspettava qualcosa del genere. Il nostro dirigente Fabrizio De Meo è stato nominato responsabile del Dipartimento Politiche, Sociali, Educative e Giovanili. Lui si occupa ormai da diversi anni qui a Genova ma anche in ambito nazionale di questi temi. Attualmente è in Libano con una nostra missione internazionale in quei territori dove portiamo la voce dell'UISP e le esperienze dell'UISP e da domani dal suo rientro si occuperà appieno di questo ambito. Quindi questo per noi è anche il riconoscimento di quanto di buono si faccia su questo territorio. Vediamo anche il progetto attraverso il vostro sito ufficiale, progetto Mosaic proprio con l'avventura di Fabrizio De Meo e Gaia Fiorini che sono impegnati in questa missione in Libano a cura del vostro Dipartimento Internazionale. Torniamo all'attività sportiva e vediamo delle immagini che riguardano l'atletica leggera che è un po' il tuo sport. Queste sono immagini di Campi Bisenzio per questo appuntamento con i campionati nazionali su pista. Sì, qui si torna indietro di un paio di settimane. Siamo a Campi Bisenzio per l'appunto dove si sono svolti i campionati nazionali che erano un po' il momento conclusivo di questa stagione dell'atletica leggera, giovanile e non solo giovanile. Ci tengo a sottolineare la positività di questa esperienza perché qui in provincia di Genova attraverso il progetto l'atletica è leggera. In questi ultimi due anni abbiamo portato in maniera continuativa sulle piste oltre 800 bambini e ragazzi e questo credo non sia un traguardo per noi, anche se in atletica il traguardo è un momento determinante della disciplina, ma il punto di partenza per l'attività che stiamo programmando proprio in questi giorni e che credo avrà valenza triennale per arrivare alla fine del nostro mandato dirigenziale. Ci poniamo obiettivi ancora più ambiziosi grazie al fatto che tutte le nostre attività sono discusse e condivise con le nostre basi associative e questo vuol dire un punto di partenza solido per raggiungere per l'appunto i traguardi che si diceva prima. Insomma la delegazione WISP comunque ha avuto buoni risultati e quindi questa è una soddisfazione, stiamo vedendo momenti della premiazione. Sì, qui erano presenti i ragazzi del Cogoletto, dell'Atlet Team, della Polisportiva Torriglia, quindi una rappresentativa di una cinquantina di atleti appunto in rappresentanza di una base di praticanti molto più ampia. Un altro anno vedremo di essere presenti ancora in maniera più numerosa, ma comunque già qui siamo riusciti a rappresentare degnamente il nostro movimento. Lasciamo l'atletica e andiamo all'equitazione perché sabato prossimo sarà una festa finale a Bavari, sabato 29 e sarete presenti a questa festa al maneggio dell'associazione Equestre a Riosto che si occupa di ipoterapia. Sì, questa associazione è un fiore all'occhiello del nostro ente dell'UISP per l'appunto e è un'associazione che attraverso l'equitazione si occupa del recupero, dell'assistenza a ragazzi e anche adulti portatori di handicap. È un'esperienza ormai in atto da moltissimi anni grazie all'impegno di un numero di operatori estremamente qualificato e attualmente diretto dal Presidente Sabrina Gaggero. Qui si vedono proprio i risultati della condivisione dell'attività con i ragazzi, con le famiglie. Sabato sarà il momento conclusivo dell'attività di quest'anno, ma il momento in cui, noi piace sempre sottolineare questo aspetto, si riparte con la discussione, la progettazione dell'attività del prossimo anno. Quindi invitiamo tutti gli interessati ad essere presenti perché è il momento di quelli veramente importanti. Stiamo vedendo queste belle immagini, ricordiamo l'appuntamento sabato 29 a Bavari e l'UISP sarà presente per questa bella iniziativa. Vediamo il lavoro, l'importanza dell'ipoterapia. C'è, come parlavo prima, degli operatori. È necessaria una grande esperienza, qualifiche, ma soprattutto poi tutto questo deve essere condito da una grande sensibilità, da una grande passione, perché se no l'esperienza e l'essere qualificati da solo non basta. Qui è proprio un ambito in cui le sensibilità di tutti sono fondamentali. Andiamo sul nostro sito www.telenord.it, la pagina dedicata allo sport, ma la notizia la trovate anche sul sito dell'UISP, che ricordo è sempre aggiornatissimo per tutte le informazioni, perché lunedì prossimo ci saranno le premiazioni del campionato regionale di pallanuoto UISP. La stagione è stata molto ricca e si conclude proprio lunedì con le premiazioni. Sì, lunedì sera saremo a Peglia, all'Oasi del Mare, qui è il momento conclusivo, è il momento conclusivo di festa, premiazioni, ma festa, e anche qui guardare avanti. L'attività si è conclusa, ha coinvolto 13 squadre, che parlando di pallanuoto amatoriale non è poca cosa, sono circa 400 i tesserati di questa disciplina, che settimanalmente, ma per gran parte dell'anno, in questo caso affollano le nostre piscine, spesso in orari anche improbi, perché le piscine e gli orari in piscina non sono mai così facilmente accessibili, e vengono ritagliati con fatica. Tenendo conto che poi i nostri atleti sono atleti già di spesso età avanzata, quindi devono conciliare i problemi di lavoro, ovviamente familiari, con la pratica sportiva. C'è anche qui tanta passione. L'attività, il campionato, ancora una volta, è stato vinto dall'Eno Gastronomico Sportiva Camonaco, che proprio in questi giorni a Budapest sta disputando i campionati europei over 30. e l'attività, al secondo posto, si sono classificati i nuotatori rivarolesi, al terzo il Lavagna 90 e al quarto lo Sporting Club Sori. Il campionato, appunto come dicevo Valenza regionale, in quanto abbraccia società di tre province, con un'escursione fuori regione, perché Valenza quest'anno ha partecipato alla nostra attività. Anche qui con grande sacrificio per tutti, perché le trasferte non sono brevissime, l'inverno è stato pesante, però, come dire, siamo riusciti anche a far fronte a queste problematiche. L'anno prossimo ci saranno, a mio parere, delle importanti sorprese, si allargerà probabilmente ancora la base delle squadre praticanti, e il campionato sarà ancora più avvincente. Ultima cosa, la settimana prossima, venerdì e sabato, nel Senese, si svolgeranno i campionati nazionali, ai quali, in assenza del Camonaco, che come già dicevo prima è impegnato a Budapest, parteciperanno le squadre che si sono classificate immediatamente alle spalle, quindi Rivarolesi, Sori, il Rarinante Scamogli e lo Sporting Club, il Sori campione in carica e il Lavagna 90. In questo caso con buone possibilità di portare a casa il titolo, che spesso in questi anni è stato appannaggio di nostre compagini. Quindi auguri ai partecipanti e ne sapremo di più tra una decina di giorni. L'inbocca al lupo naturalmente a tutti, prima di andare escursioniamo insieme, che questa bella idea settimana in montagna ci arriveremo, leggo sul vostro sito una nota firmata da Vincenzo Manco, che è il presidente UISP nazionale, che riguarda le dimissioni del ministro IDEM, ma la delga allo sport che rimane comunque di rango ministeriale, quindi l'UISP nazionale si congratula per la scelta di Del Rio. Sì, purtroppo queste cose non dovrebbero succedere, ma invece vediamo che spesso non è così. Bisogna far fronte a queste situazioni per l'appunto. Mi sembra che ci si faccia carico del problema da parte del presidente del Consiglio. Lo sport è tenuto in grossa considerazione, nella scelta che era stata fatta di individuare un ministero specifico, era già una bella scelta di campo, cercheremo di sostenere anche noi come associazione le scelte del governo su queste tematiche, cercando di essere anche critici quanto basta, ma propositivi ovviamente. Stiamo per chiudere un minuto e mezzo, allora dedichiamolo a Escursioniamo Insieme. Una settimana per tutti i vostri soci in Val di Fiemme, cultura, ambiente, naturalmente sport, camminata, abbiamo visto bellissime immagini anche recentemente proprio di sport in montagna. Ma sì, abbiamo proposto questa iniziativa che si svolgerà dal 21 al 28 di luglio, da domenica a domenica, proprio per, è un'iniziativa intercircoli, delle associazioni afferenti alla nostra Lega Montagna, proprio per condividere un pezzo di strada assieme, fisicamente lungo i sentieri splendidi della Val di Fiemme, ma poi anche per approfondire e discutere le tematiche del lavoro quotidiano della Lega Montagna. Saremo in una quarantina a partecipare a questo evento e credo che da lì si tornerà con estrema soddisfazione e con entusiasmo anche per questo settore importante della nostra associazione. Il periodo quale sarà? Dal 21 al 28 luglio. Se qualcuno volesse ancora, decidesse adesso di partecipare, c'è ancora qualche posto, quindi vi invitiamo a contattare il nostro comitato. Ricordiamo sempre che per avere tutte le informazioni il sito WISP Sport per Tutti, la pagina di Genova, naturalmente con tutte le informazioni, ma c'è anche la possibilità di contattarvi direttamente via Ponte Reale. Con questo grazie a Tommaso Bisio. Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione. Il nostro appuntamento con WISP Magazine torna prestissimo. Grazie a tutti.